Motori accesi, sono 61, 4 in più dello scorso anno gli equipaggi iscritti all'edizione 2019 del Rally dei Templi che scatterà oggi pomeriggio dal lungomare di San Leone ad Agrigento per concludersi quest'anno per la prima volta a Canicattì. Ad aprire le partenze sarà Skoda Fabia R5 di Alfonso Di Benedetto che dopo aver vinto le ultime due edizioni con Longo cercherà il Tris con a fianco l'agrigentino Ivan Rosato. Di Benedetto così come altri 24 partecipanti porterà i colori della scuderia Project Team, lo seguiranno sulla pedana di avvio le Mitsubishi Lancer di Cacciatore Nucci, le Super 1600 dei Rofarulla e Mattina e le Renault di Nastasi e Mistretta. Due le auto storiche presenti, la Porsche 911 di Di Lorenzo e Bugea. La storica gara organizzata dall'Automobile Club di Agrigento quest'anno si concluderà domani a Canicattì coinvolta come sede d'arrivo per la prima volta. Tecnicamente la gara studiata e allestita nei minimi particolari dei componenti della Commissione Sportiva dell'Automobile Club di Agrigento si presenta con un percorso ritoccato in alcune prove. La confermata Cianciana allungata a 13 km che aprirà le ostilità in notturna, la classica Montaperto che è stata portata a 7,2 km e la riproposta Aragona a 4,5 km che sarà ripetuta per tre volte al pari della Montaperto. I passaggi sulle PS saranno in totale 8 per un totale di 61 km di prove speciali su 390 di percorso totale. Il via alle 17 di oggi sarà dato dal lungomare Falcone Borsellino di San Leone, la frazione balneare di Agrigento, mentre l'arrivo della gara è fissato alle 17.40 di domani a Canicattì. Due diversi parchi di assistenza, il primo ospitato a Cianciana e il secondo nel piazzale Ugo Lamalfa da Agrigento. Alle confermate validità per la Coppa di Zona per il campionato siciliano si è aggiunta quest'anno la titolarità per il trofeo Relli Clio R3 Open che hanno attirato molti equipaggi nella classifica assoluta conduttori del campionato siciliano. Guida il messinese Galipò grazie al secondo posto in targa con la scuola Fabia R5 che è allungato in classifica rispetto ad Andrea Anastasi, leader delle R3C e presente al Templi. Fra i navigatori Pintaudi adesso seguito in classifica da Loneri, grande equilibrio fra le navigatrici. Erminia Rizzo, sempre piazzata nelle gare fin qui disputate, guida la classifica davanti a Valentina Nobile e Jessica Muccio. Nelle altre classifiche questi, leader presenti ad Agrigento, Nazareno Pellitteri nella classe A7, Giovanni Lanzalaco nella classe N3, Vincenzo Chianetta nella classe N2. Le ultime due edizioni del Rally dei Tempi sono state vinte dal duo di Benedetto Longo con la Fiesta R5, mentre lo scorso anno tra le autostoriche si impose la Porsche 911 dei fratelli La Franca.